Musica Palazzo Labberdieri, stamattina siamo per presentare una conferenza stampa per Sposi e Stelle Siamo in compagnia di alcuni partner di questa manifestazione, cominciamo da... Io sono Francesco Malisieri, mi occupo di fotografia da almeno 20 anni e partecipo all'evento Sposi e Stelle Io nel mio settore cerco di interpretare la coppia e dare un prodotto personalizzato, questa è la certezza Allora veniamo a scoprirlo nello stand tuo, esatto Io invece mi accosto a una bellissima ragazza che ti chiami? Rossella Sito Sito che sarai la presentatrice Sarò la presentatrice, coreografa e regista della manifestazione Sposi e Stelle Invece abbiamo un'immagine di Sposi e Stelle del passato, ma in realtà è molto molto attuale, sei? Roberto Wober, attualmente sono socio appunto di Rossella Sito Quindi giochiamo in famiglia Sposi e Stelle è una manifestazione che si svolge a Casoria A Casoria in un luogo ben noto a tutti Che sarebbe Shopping House Shopping House ha una lunga tradizione in materia, si parla della decima edizione È una manifestazione che esce nei canali tradizionali, oggi ne abbiamo tante di manifestazioni Ma non tutte hanno il piacere di annoverare tra di loro un elenco di veri attività, tutti di grandissimo livello La manifestazione ha a parte un ingresso libero, però non è una cosa da non sottolineare Perché molti espositori pretendono questi 10 euro di ingresso, 15 euro, per un peseudo spettacolo No, noi non vi promettiamo nulla, però visitando questa manifestazione avrete ogni tanto qualche picca interessante Io insieme a Roberto Uo per della 2R Comunicazioni ci occuperemo di tutte le sfilate, regia, coreografia E io sempre insieme a Roberto condurremo anche questi mini, io li chiamo show perché è giusto chiamarli così Nel senso che comunque anche la passerella è stata costruita tra gli stand, quindi questa è la cosa più importante In modo che comunque tutti i visitatori potranno accedere alle sfilate Potranno vedere i meravigliosi abiti di questi atelier che insomma esporranno e che da domani potrete visionare presso il centro shopping house Sono stato il testimonial per 8 anni e mi fa piacere appunto di essere passato anche dietro le quinte di questa organizzazione Anche perché oltre a un discorso mediatico interessante, quale può essere Sposi e Stelle, per me è anche una situazione affettiva Io mi occupo di fotografia e diciamo che in questo evento i nomi per il segmento fotografico ci sono tutti Cerchiamo di ogni collega, ogni fotografo di dare una novità, una situazione un po' più nuova tenendo conto delle tecnologie Quindi bene, che dire, vi aspettiamo in massa, cerchiamo di rendere questo evento ancora più forte di come è Allora facciamo una cosa, andiamo tutti quanti insieme un bel invito a Sposi e Stelle Vi aspettiamo sabato, domenica e durante tutta la settimana per vedere il nuovo matrimonio Io così lo definisco, perché sarà sicuramente un punto d'incontro per i futuri sposi Grazie